Bentornati o benvenuti ad un nuovo episodio di Morsi, questa rubrica in cui in circa 20 minuti proviamo a recensire film o serie tv. Oggi però... Oggi però Popcorn e Podcast è ospite della Room Official Week, quindi in occasione della nostra partecipazione, qui a Spazio Cosmo registriamo una puntata live con i partecipanti al workshop di questa mattina. E niente, sarà un episodio speciale. E di cosa vogliamo parlare in questa puntata speciale di Morsi? In questa puntata speciale andiamo a ripercorrere un po' quello che sarà insomma il 2025 cinematografico e parleremo di una decina di titoli, diciamo tra i più interessanti, Biancaneve, Fantastici 4, Capitano America Brave New World Little Stitch, Superman, Avatar 3. Soprattutto Avatar 3. Ma bando alle ciance iniziamo questo episodio ma soprattutto io farei fare per la prima volta live un applauso al nostro pubblico. Applauso! Eh? Non te l'aspettavi. E poi così a uffa perché mi piace bazzare. E poi facciamo fare il coro, il lancio della sigla. Il lancio della sigla, vai. Allora facciamo questa cosa live in cui dite sigla 1, 2, 3. Sigla! Ciao Alessio! Ciao! Bentornato! Esatto! Allora anche oggi la puntata è presentata da me Simone e Alessio Cappuccio. Come abbiamo anticipato siamo in compagnia, siamo in compagnia della redazione di Popconne Podcast all'interno di Spazio Cosmo, il nostro quartier generale ad ospitare appunto all'interno di questo spazio. ci sono i nostri corsisti, si può dire corsisti, borsisti, che hanno partecipato questa mattina all'interno della Roma Future Week 2024 e abbiamo fatto un corso teorico su come costruire un podcast e oggi abbiamo cotto l'occasione di registrare questo episodio speciale in loro compagnia. Io intanto chiederei qual è il vostro film più atteso del 2025? C'è un microfono, potete prendere e fare quello che vi pare. Io non so se esca nel 2025 o qualche mese prima, ma quello di Almodovar. Ok, Almodovar esce a dicembre, quindi è del 2024, però va bene, va bene. Se vuoi ne abbiamo parlato in un episodio di Morsi, che è sul nostro canale, quindi puoi andare ad ascoltare e invito anche gli ascoltatori ad andare ad ascoltare questo. Però possiamo dire che Simone è l'unica persona più o meno al mondo a cui non è piaciuto, nonostante abbia vinto il gioco d'oro. Ne ho parlato malissimo, è vero, è vero. Noi andiamo a parlare di un titolo che è un remake molto importante, ossia Nosferatu, che esce il primo gennaio nel 2025 ed è... Al posto del classico Checco Zerone che esce sempre il primo gennaio, Nosferatu. E poi più o meno c'è la stessa perata. Diciamo che Nosferatu è il primo film che ha trattato il tema vampiri nel 1922. Sì, probabilmente. Il primo film era il gabinetto del Totò Garigari, che io ho scoperto grazie ad Alberico, l'altro giorno. Il regista è Robert Eggers. Ci sei, Robert Eggers, già autore di un paio di classiconi ormai dell'horror come The Witch e The Lighthouse. Tra i tre protagonisti c'è il cattivissimo corvo Big Skarsgård, Nicholas Hoult. Aspetta che c'è bisogno degli occhiali, Alessio. È un po' piccolo. Me lo dici? Ecco. Ci vedi meglio? Molto meglio. Se vuoi poi mettete di là e vedete alla TV. Sì, e poi... E poi il Ross Depp, la figlia di Johnny Depp. Scusa, ricordiamo il volto di Bill Skarsgård. Che cosa ha fatto? Il corvo. Il corvo hit. E poi Aaron Taylor Johnson, Emma Corrin e il prezzemolino, We Hand a Fogger, ormai sta un po' ovunque. Sta un po' ovunque ha fatto anche il suo ultimo film, Lighthouse. Giusto? Esatto, sì. E chiaramente è uno dei tanti remake, però diciamo che inosferato veri e propri della storia del cinema, sono appunto quello del 22. E poi il remake di Werner Herzog del 79. E la storia dovrebbe essere un po' quella classica, che conosciamo, ambientata nella Germania del XIX secolo. Probabilmente con l'ossessione di Eggers per la ricostruzione storica, per l'accuratezza delle scenografie. E poi una rivisitazione un po' più moderna di questo classico dell'oro. Vabbè, però... Tu cosa ti aspetti? Io non lo so, non è un film che andrò a vedere al cinema. L'ho detto. Eh vabbè, quindi... Prenotatevi voi di redazione andare a vedere quest'anteprima, perché... Non andrò, ma io andrò volentieri a vedere A Compete Unknown, il 23 gennaio 2025. È un film di genere biografico, drammatico, musicale, che sarà diretto... Di cui non si sa niente. Infatti il titolo è... È complita o no? È complita o no? Non si sa nulla, è proprio zero. È uscito il 23 gennaio, diretto da James Mangold. È quello di Logan, è quello di biopic su Johnny Cash. Esatto, ma quello che interessa a tutti è che l'interprete di questo biopic su Bob Dylan è Timothy Chalamet. Che ormai, sì, ormai è diventato il sex symbol di tutte le quindicenni. Ecco. Anche un po' più di tutte le ventenni, ok. E poi c'è anche Edward Norton, che finalmente è tornato a fare film dopo un periodo di buio. È una lunga pausa. È una lunga pausa perché si diceva che Edward Norton era ingestibile sul set, si incazzasse in continuazione. L'ultimo film credo che sia proprio Birdman, lo sai? Ma addirittura? No, ma è la scuola, però è la scuola. Quale? Mode per scuola. Vedi? Brava, brava. Microfono. Microfono, per favore, microfono. Ambientato nella New York degli anni Sessanta, dove un musicista 19enne del Minnesota, Bob Dylan, si sta affermando come cantante folk. Cosa possiamo dire di questo film? Cosa sappiamo di questo film? Ma io durante poco e niente. Allora andiamo avanti. Il prossimo film... No, diciamo che... Probabilmente sarà il solito, insomma, il classico, un biopic. Strano che non è un... La scesa del giovane Bob Dylan. Quando... Strano che non è un film presentato in qualche festival? Perché se esce a gennaio del 2025 non viene presentato da nessuna parte. No, ha perso, insomma, Venezia, ha perso Cannes, non mi pare che abbia fatto il Tribeca. No. Toronto neanche. Strano, perché comunque è un film di cui si parla da abbastanza tempo, almeno due anni si parla di questo film, per quanto riguarda la storia di questo personaggio, che è già stato trasportato più e più volte al cinema. Bob Dylan, intendo. C'era... Io sono qui. Io sì. Oh, io non sono qui. Io non sono qui. Prossimo film, abbiamo già parlato in un contenuto sui nostri canali. Leggendario ormai reaction video. Reaction trailer. America Brave New World. Esatto. 12 febbraio, che è il primo film della fase 5. Assolutamente il primo film, come dire, solitario, in solitaria, in cui Capitano America è il nuovo... è il nuovo attore. Come si chiama, Anthony Mackie. Ma soprattutto è il primo film dove Capitano America non è Capitano America. Che vuol dire? Vuol dire che è un film che porta il titolo Capitano America, ma non c'è il vero Capitano America perché l'interprete del vero Capitano America. È quello che ho detto io in maniera molto sintetica. Però è importante, aspetta, non deve passare sotto. È importante perché tu stai vendendo un prodotto. No, io non vendo niente a Marvel. Non mi pagano, per cui non ho bisogno. Va bene, comunque, sì, è il primo film a seguire la terminale successiva di Avengers Endgame. Credo si piazzi in qualche... dopo qualche serie tv Disney. Cosa succede in questa pellicola tanto attesa? La cosa più attesa è che... Che il presidente degli Stati Uniti si incazza e diventa Hulk. E soprattutto il presidente degli Stati Uniti è... Harrison Ford. Quindi? Indiana Jones. Esatto. Stavamo aspettando tutte queste cose. Indiana Jones che diventa Hulk è una cosa che nel multiverso potrebbe accadere. Infatti è accaduta. E poi c'è un villain interpretato da Giancarlo Esposito. Che stavamo aspettando da Marvel. Lo volevano tutti. Finalmente è un attore italiano. Non è italiano. Da Marvel, no? Non è italiano. Vabbè, quindi ci sarà questa cosa. E soprattutto, probabilmente... Ecco, forse è collegato a She-Hulk. Per collegarci ad una serie tv Marvel, molto probabilmente, questo film porta qualche collegamento, qualche strascico a She-Hulk. Che senso? Nel senso che all'interno della serie è stato visto come esiste Abominio, che era nel primo film di Hulk, della prima trasposizione cinematografica di Edward Norton. Edward Norton. Quindi sappiamo che esiste un altro Hulk. Sono stati presi da lui, credo, le cellule sintetiche per poter fare questi super soldati che il presidente degli Stati Uniti avrà preso per diventare Hulk. Credo. O Zubato, magari. Questa è una mia teoria. Ci dobbiamo andare a vedere. Questo me lo vado a vedere io, tu stai a casa. Tu vatti a vedere Biancaneve, che esce il 20 marzo, anche perché c'è la bellissima Gal Gadot. Che però non è la più bella del Reame. No, perché è Zegler. Zegler è la più bella del Reame. Che era in West Side Story. In West Side Story che interpreta appunto Biancaneve. Ma io qui voglio far raccontare questo Biancaneve a... Che vuoi? Che c'è? A Chiaretta. Vai, Chiaretta, vai. Raccontaci questo Biancaneve. Esce il 20 marzo del 25. Racconta la storia del Biancaneve. Con lei che mangia la mela e muore. Ah no, nella versione censurata la vomita, non viene baciata. Questo è importante raccontare anche perché sono cresciuta con la versione dove lei vomitava la mela. Non è stato particolarmente bello. E sì, allora, è stato un film, devo dire, deve ancora uscire appunto. Uscirà il 20 marzo del 25. Però ha già fatto il boom, diciamo, i famosi buzz, praticamente. I pettegolezzi su questo film. I famosi buzz? Sì, esatto. I pettegolezzi o le critiche su questo film. Principalmente per le figure dei nani che accompagnano Biancaneve. Tutti si sentite toccate in quanto persone diversamente alte? Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi soprattutto si è sentito toccato il protagonista, uno dei protagonisti di Game of Thrones appunto, che interpreta Tyrion Lannister, però non mi ricordo lui come si chiama. Peter Dinklage. Aspetta, lo faccio dire a Claudio. Peter Dinklage. Lo vedi? Cioè i nomi almeno riescono, quindi è importante. Possiamo dire che la forza di questa redazione siamo noi, che ci facciamo forza vicenda. Eh sì. Lo possiamo dire? Non io. È una cosa bella. È una cosa bella. Sì, diciamo che c'è stata una forte critica da parte dell'attore sul ruolo dei nani, perché è stata vista come una sorta di ci venite a chiamare solo per fare questi ruoli. Quindi è stata un po' una sorta di ripulire l'immagine, un po' come quando c'è la stessa tematica sugli attori o le attrici transgender, cioè ci venite a chiamare solo quando serve di fare un film con questi ruoli, invece giustamente vogliono anche essere chiamati e chiamate per altri ruoli che vadano oltre magari la loro statura, come in questo caso di Biancaneve o nel caso di appunto attori o attrici transgender, andare oltre. Tipo ad esempio è come venire in mente l'attrice di Euphoria, però non mi ricordo come si chiama lei. Hunter Schauffer. Esatto, esatto. Grazie per l'aiuto da casa, come sempre. Sì, vabbè, ma Alessio è dato per scontato. Lì è secchione di turno. È l'enciclopedia. Esatto. E che altro dire? Ricordiamo che in questa versione la principessa si salva da sola. Ah, sì, giusto, emancipazione. Così, anche un bricio di emancipazione femminile, quindi non vomita la mila. Non viene baciato al principe azzurro che deve chiedere il permesso per baciarla. Una cosa importante. Si salva. Per me è di fondamentale importanza. I nani ci stanno, sì? Sì, ma a quanto pare non di attori reali. Quindi non sono nani veri? No. E come l'hanno... Esatto. Che gli hanno fatto? L'hanno tagliato le cani? Che come... Esatto. Io aspettavo un film con i nani, che va bene. Chiara, tu che sei lo specchio di questa redazione? Delle brame. Chi preferisci? Gal Gadot o Rachel Zegler? Forse è la seconda. Rachel Zegler. Pensavo mi stessi chiedendo chi è la più bella del reame qua dentro. No, per rispondere... Non siamo ad amici di Maria dei Figli. No, no, no. Poi andiamo avanti con un film d'animazione che... Finalmente il biopic animato di Ario e le storie tese. Ario e le storie tese. Ario, in uscita il 13 giugno, sempre il 2025, chiaramente. Finalmente è un film che insegna la chimica ai nostri ragazzi. Ma soprattutto la Pixar hanno capito che i nomi italiani spingono e daglie. Dopo Luca, Ario. E poi ci sarà Marco, Antonio, Giovanni e... Stronzio. No. Ah, vabbè. Elemento chimico. Di cosa parla questo Ario? Tu te lo ricordi? Parla di fatti di alieni, di questo ragazzino dalla grande immaginazione che un giorno si ritrova trasportato dal nulla in questo concilio dei pianeti intergalattici e lui viene nominato un po' a casaccio ambasciatore della Terra. E lui è chiaramente un bambino di, insomma, 13 anni, per cui, insomma, abbastanza impreparato al ruolo. Però, insomma, come spesso accade, la sua ingenuità, la sua innocenza lo aiuterà a vedere la purezza, la sincerità. Ma questa cosa te la sei inventata o l'hai letta da qualche parte? Perché mi sembra tanto di supercazzo, dai, no? E poi cose inanimate avranno dei sentimenti, come in tutti i cartoni della Pixar. Il regista è Aria Molina, sceneggiatore e co-regista di Coco, prodotto da Mary Alice, che anche lei è stata una produttrice associata di Coco, un altro grande successo della Pixar. Diciamo che io questa storia, in qualche modo, già l'ho sentita. È il fiume di The Juggal. Uguale. Lui viene preso dagli alieni, perché ha mandato un curriculum. Poi va a lavorare per gli alieni. Degli alieni. E a un certo punto lui è tipo la voce degli umani per loro. Però in questo caso il protagonista non dice Huawei? Non è. Vabbè, andiamo avanti. Fantastic Four Steps, 25 luglio. Ne abbiamo già parlato anche qui, sui social. Una pellicola che è un po' di vite, perché non ha ben specificato, meglio, non è ancora uscito il villain di questo film. E quindi, con il fatto che il villain principale dei Fantastici 4 è Galactus, e Dottor Doom. Beh, Galactus c'è. Galactus c'è, però non sappiamo se c'è Victor Von Doom, che in questo caso dovrebbe essere interpretato da Robert Downey Jr. apparirà, cioè, se no che vi fai affari con Fantastici 4. Ok. E però c'è Silver Surfer in versione femminile. Ah, finalmente, c'è Shalabal. Puoi incazzare che cambiano sesso ai tuoi personaggi preferiti. Ah, da, che domande mi fai adesso? No, non è una cosa che... Ma a me, sinceramente, che è maschio o femmina, non mi cambia niente. Oh, che problematica. Ma diciamo chi c'è nel cast di questi Fantastici 4. C'è Vanessa Kirby. Kirby? Pedro Pascal. Ah, Vanessa Kirby è la donna invisibile. Pedro Pascal... Mr. Fantastic. Mr. Fantastic. Crack, credo sia la cosa. La cosa, molto probabilmente. Joseph Quinn, la torcia umana. Julia Garner, appunto, Silver Surfer, il femminile. E Ralph Inneson, che sarà il nuovo Galactus. E Robert Downey Jr., probabilmente. Ma questo, però, lo stai dicendo tu. Perché lì, al D23, durante la presentazione, non l'hanno detto. Ma che ti vogliono dire? Non l'hanno detto. Hanno detto che ci sarà Galactus, hanno fatto vedere le prime immagini. C'è abbastanza hype per quanto riguarda la linea narrativa di questo film. Che è ambientata in un universo diverso da quell'ordinario. Ma dalla Marvel passiamo alla DC. Perché c'è James Gunn, che torna alla regia di un altro film della DC. Dopo... qual era? Suicide Squad. Suicide Squad. Superman Legacy. E nuova iterazione del personaggio di Superman, Clark Kent. In questo caso, interpretato da un semi-sconosciuto, mi pare, David Collins-Witt. Che noi abbiamo visto nel film Twisters. Ah sì? Esattamente. Bravo coglione. Bravo ragazzo non lo so. Però io mi ricordo che all'anteprima di questo film le ragazze hanno fatto... Ah, wow. Quindi è bello, è bello. Solitamente Superman non è... Ecco, perché secondo te Woody Allen non ha mai interpretato Superman? Perché non gli interessi. No, perché non è un bel luomo. No, purtroppo. E quindi l'abbiamo visto nel... L'altro cast, come al solito, è abbastanza bello pieno. Tra le cose più interessanti c'è Nicolas Hout, che sta pure qua. Che fa Lex Luthor, lo storico antagonista di Superman. Però ci saranno un bel po' di personaggi ideali, sì, come Lanterna Verde, Ogor, c'è la ragazza Falco, Metamorfo, Mr. Terrific, Ingegnere, Tesh... Vabbè, Ikea, non si capisce bene. Ikea? È il classico di nuovo. Ma cosa sta leggendo? È questo, Yves Teschmacher, che sembra più Ikea. Jimmy Olsen. Diciamo, la cosa interessante è che James Gunn ha detto di essersi ispirato a una run abbastanza, insomma, molto famosa di Superman, che si chiamava Star Superman, e che riporta un po' il personaggio a quelle che sono le sue origini, insomma, togliendoli i panni d'arc che ha dato Zack Snyder, riportandolo a quel campione di ottimismo e di speranza che Superman ha sempre rappresentato. Sono una versione molto pura del personaggio. Perché l'America aveva bisogno di un supereroe e James Gunn gli ha dato un supereroe. Make America great again. Esatto. Bravo, bravo. Avatar 3, Fire and Ash. Non se ne esce, ragazzi, non se ne esce, perché James Cameron ha dichiarato che dopo Avatar 3 e Avatar 4 sta già girando un altro film. Ma chi cazzo glieli fa fare tutti questi film a James Cameron? Ma i soldi che si incassa, proprio. Però, Avatar 3, vai, parla di Avatar 3, perché io ho visto Avatar 2, mi è pure piaciuta, però è quello che, poi li fa pure bene questi film, capito? Avatar 3 riprende, diciamo, la fissa di James Cameron a questo giro con gli elementi naturali, per cui questo è dedicato all'elemento del fuoco e delle asce. E delle asce, della cenere. Fire and Ash. Non è un elemento rasta, Giorgio. E quindi ci si può aspettare vulcani, raghi magmatici, la stessa storia è qua, la solita ossessione sua per la ricostruzione di ambienti naturali, fotorearismo, e chiaramente rivedremo, diciamo, il cast. Sam Worthington. Comunque in Worthington, Zosagdana, Sigourney Weaver, molto probabilmente, e nuove new entry, Stephen Lang, Sigourney Weaver già abbiamo detta, Giovanni Ribisi e Michelle Yeo. Finalmente un italiano. Chi è? Giovanni Ribisi. Giovanni Ribisi. Ma tu lo sai che il primo Avatar è stato diretto da Fiore? Cioè è stato il direttore della fotografia, era Fiore si chiama il cognome, adesso non mi ricordo il nome, che era un italiano-americano che vinse l'Oscar per la migliore fotografia, e in Italia disse, ah, finalmente un italiano ha vinto l'Oscar per la migliore fotografia, ci fu tutto, te lo ricordi questa faccenda? No. Sei un cane, sei un cane, sei. Avanti. No, scusa, c'era tutta la parte semiotica e l'hai saltata apposta. La parte semiotica. La parte semiotica. Togliete il microfono a questa... No, no, scusate, la parte più poetica di Avatar. Dicci, dici un po'. Io ti muto e... Allora, Simone perché non ne capisce niente, assolutamente nulla. Ma meno male, non è che posso sapere tutto, però. Cosa? Non posso sapere tutto. Ah, pensavo mi avessi mutato per questo commento. No, 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 sto cercando di mutarti. Ah, la parte più bella, secondo me, di Avatar, è proprio l'evoluzione dei personaggi legata agli elementi. Quindi il primo abbiamo il bosco, la terra, la natura. Calcola, mi hai già preso. Cioè, raccontami, può stare anche un'ora, mi hai preso. Bugiardo. No, perché nel primo, no, troviamo il protagonista, Jack, che appunto inizia a conoscere questo nuovo mondo, piano piano immerso nel bosco, è la natura, piano di feedback, di crescita proprio totale, potremmo dire. Infatti ci sono molte battaglie. Mentre c'è la scelta dell'acqua nel secondo film, dove il personaggio di Jack è obbligato a riflettere, a pensare, a cercare la calma, è una cosa interessante che gli insegna il figlio adolescente, perché lui proviene dal bosco, dove effettivamente è stato iperattivo al massimo, cioè è stato sempre rincorso, sempre con questa gioia, smania dell'avventura. E il secondo film è questa avventura, questa ansia, la riproietta sui figli, perché è proprio iperprotettivo, no? Cioè ha questa ansia terribile, e l'acqua rappresenta invece l'opposto, quindi appunto la calma, un personaggio che passa a meditare, passa al contatto con l'acqua, con le origini, con l'inconscio, perché appunto l'acqua rappresenta anche questo, c'è proprio una crescita più che altro psicologica del personaggio. E nel terzo si passa invece al fuoco, quindi finalmente si dà, come dire, voce a un sentimento che viene troppo spesso represso, che è quello della rabbia. Infatti lo stesso Cameron, come giustamente hai riportato tu, vede nel fuoco l'odio, la violenza, il trauma, e appunto afferma che, cosa rappresenta la cenere? Nella mente di Cameron, la cenere rappresenta le conseguenze di tutta quell'energia, quel dolore di dover convivere con quello che si è fatto. Quindi c'è, chissà, magari anche un piccolo occhiolino all'egemonia, al potere dell'uomo sul sottomettere la natura, che in Avatar è un tema centrale. Ecco, scusa. Capisci che qua tutti così stavano. Figurati, hai tenuto il pubblico, guarda, solo Trump come te, guarda. Oh, questo era chiaro, la nostra naturopata. No, però molto interessante, poi ci sarà il quarto capitolo dedicato all'aria, quindi mi immagino. Quindi dalla rabbia andiamo proprio al... Cioè, mi immagino. No, no, vieni qua, è arrivato un altro pubblico, è arrivato. Prego, prego. Possiamo andare avanti, Chiara, o hai altro da... No, no, è finito, è finito. Non ho mai visto l'Ava, però non mi hai fatto mille voglia di... Capisci, le mie doti di persuasione sono incredibili, lo so. Le soddisfazioni. Poi, no, veramente? Frank Stein... Ma davvero? Ghiermo del Toro gli mancavano... Non ho mai fatto un film sui mostri, e quindi perché non fare Frank Stein, il remake? E insomma, protagonisti... Jacob Berordi, che abbiamo visto in Saltbird, Mia Gott, che abbiamo visto un po' ovunque nella trilogia di Maxine, Chiara si... his best? Oscar Isaac, Christopher Waltz, e... Lars Mikkelsen, che è il figlio di... è il figlio di Matt Mikkelsen. Max Mikkelsen, chiede. Lance. Sarà il figlio proprio. Forse è il figlio di... Qualcuno sa qualcosa su questo film? No, non ti sa un granché. Sarà in bianco e nero anche questo? Ho visto una foto di scena, era in bianco e nero, però non so se poi... in effetti il film sarà in bianco e nero. E no, la cosa interessante è come spesso accade, ogni tanto ci sono le annate, in cui ci sono i film che trattano lo stesso argomento. Tipo, c'era stato l'anno degli insetti, l'anno degli squali. Insomma, l'anno prossimo sarà quello di Frankenstein, perché c'è anche in preparazione questo The Bride, che è appunto una regia di Maggie Giganal. Maggie? Maggie Giganal. Giganal. E, insomma, Cast d'eccezione, è una storia ambientata negli anni 30, dove appunto c'è un po' il classico seguito della storia della creatura. È un mostro di Frankenstein, in cui lui chiede al suo creatore di costruirgli una compagna, una sposa. Insomma, visto i tempi che corrono, è probabile che ci siano tematiche femministe, emancipazioni, non so, vedremo. Ci interessa questo film? Beh, secondo me è interessante. Più di Frankenstein? Più di Avatar? Ma perché dobbiamo fare il paragone? Ci possiamo vedere tutti. Giusto per fare qualcosa di diverso. In questo pod adesso non facciamo mai niente di diverso. Facciamo il paragone. È meglio... Spero il pubblico. Vi interessa questo film? Vi sta interessando? Dai, no. Vabbè, ma a te se non so... A me non piace il genere. Ok, va bene, va bene. Ma è già uscito... Segna, prendi nota. È già uscito il trailer di Mickey 17, diretto dal premio Oscar a Bon Joao con protagonista Robert Pattinson, Naomi Aki, Tony Corrett, Mark Rafford e poi di nuovo Robert Pattinson, Robert Pattinson per 17 volte. Perché nel trailer si è capita la storia di questo film. Ossia che il protagonista è un dipendente sacrificabile di una spedizione umana. Viene cronato più e più volte per essere testato in diverse... diverse cose. Eh? Mi ricorda un po' Moon, sì. Moon, esatto. Mi ricorda un po' Moon. è basato sul romanzo di fantascienza Mickey 7, scritto nel 2022 da Edward Ashton. Quindi, già ha trattato un tema fantascientifico Bon Joao. Ha fatto Snowpiercer. Ha fatto la serie Snowpiercer. No, che serie? Il film. Poi hanno fatto anche... Ah, poi hanno fatto... Vabbè, stai calmo però, non ti ho mai trattato così. Cioè, subito... Poi tutti bravi a dire, eh? Tutti bravi a... Sì, ha fatto Snowpiercer. Quindi, abbiamo capito che a Bon Joao gli interessa a noi... Tanto, stranamente anche in questo caso ambientazione graciare come Snowpiercer, anche quello di fantascienza. Il remake live action di Rire Stitch. È un live action, esatto. Live action di Rire Stitch. Il pubblico rumoreggia. Sì. Lo faccio l'altro per dire. Diamo suggerimenti. Il pubblico non gradisce il design di Stitch. Di Rire Stitch. Di Stitch. Cioè, tipo la versione horror che mi sono utilizzato di Stitch. Sì, però anche se nel D23 è stato mostrato il primo look. Allora, il look, il disegno è molto fedele all'originale. Chiaramente, momenti in cui tu trasponi dall'animazione ad un live action iniziano a uscire tutti quei problemi che usciranno per Sonic. ossia quest'idea di umanizzare in qualche modo rendere anche tangibile no? Perché uno quando pensa io quando vedo questi film penso sempre se dovessi toccare questo pupazzo materico esatto renderlo materico è sempre un problema. ma hanno voluto fare questa cosa e ad interpretare Stitch cioè Zack Gallifanakis lo so, lo so Zack Gallifanakis che è quello di Una Notte d'Aleoni Sì, il pazzo il pazzo che perché hanno fatto sta cosa? Perché essere cuccioloso no, non lui perché hanno voluto fare le Stitch in live action? Perché per fare soldi fondamentalmente da quello che ho capito ripropongono prodotti sulle storie che loro hanno già raccontato perché così gli si allungano i diritti di autore possono continuare a sfruttare quelle stesse storie Lilo Stitch è uscito più di vent'anni fa a me sa ormai quindi ci siamo dovevano rinnovare i diritti di autore in qualche modo gli ha sempre voluti non mi sorprende la cosa more money tu sai potenzialmente puoi fare quel cazzo che ti pare con la prima versione di Topolino perché sono scaduti i diritti beh è una cosa che sta facendo qual'è che è la casa di produzione horror la Blue Mouse no la Blue Mouse che sta facendo tutti gli horror delle favole adesso uscirà Pinocchio hanno fatto Honey Broom quello con Winnie the Pooh forse però non sono loro anche per Heidi hanno fatto Heidi stanno facendo Tigro ma adesso stanno facendo Pinocchio quindi si e probabilmente faranno anche Stitch non lo so io ho veramente guarda e ovviamente non ti interessa Claudia che hai un tatuaggio hai tatuato perché hai dovuto tirare fuori questo ma hai tatuato Stitch mi sa che mi molo per voi andrò a vederlo ok va bene ma hai lo Stitch tu pensi che fra tu pensi che fra vent'anni ti guarderanno e diranno ti sei tatuata Stitch dell'Election perché non conosceranno lo Stitch animato e una parte di me morirà pensa pensa pensata così vabbè io direi che visto che questa puntata è durata già più di 20 minuti e Morsi solitamente è un format non guardare fidati visto che Morsi è una rubrica di Poppa nel podcast dove in 20 minuti cerchiamo di parlare di un film e qua abbiamo parlato di quante cazzate dobbiamo tagliare sì vabbè però comunque fatto sta che siamo andati oltre ma siamo contentissimi soprattutto perché siamo orientati in questa questa edizione del 2024 della Roma Ferture Week com'è stato partecipare è stata un'esperienza incredibile però sai che questa cosa live mi piace lo sapevo perché il tuo ego si gonfia quando hai persone davanti io dico ringraziamo il pubblico per aver assistito a questa registrazione live di Poppa nel podcast ringraziamo anche risposta dal pubblico perché ho lasciato il microfono aperto maledetto me ringraziamo la Roma Ferture Week per averci dato questa possibilità noi vi diamo appuntamento ad un nuovo episodio di Poppa nel podcast vi ricordiamo di seguirci mettere like condividere esatto e niente quindi facciamo tutti insieme un saluto così lo sente poi del pubblico e ciao ciao ciao